c'è stato un periodo della vita di dante in cui si è buttato in politica come diremmo noi oggi un periodo di 5-6 anni fino al 1301 durante il quale lo troviamo quasi continuamente membro di uno o dell'altro dei tanti consigli che governavano il comune di firenze e c'è stato anche un momento nel fatale anno 1300 in cui ha avuto la carica più alta del comune è stato uno dei sei priori che per due mesi erano la magistratura suprema della città fare politica al tempo di dante non era come oggi una professione non c'era la casta tutti i cittadini potevano fare politica se avevano tempo voglia mezzi per farlo il governo di firenze assorbiva in ogni momento una gran quantità di cittadini che avevano i loro affari le loro faccende e che però contemporaneamente partecipavano anche al governo della città c'erano così tanti consigli che io ho provato a fare il conto in un singolo momento c'erano sempre almeno sei o settecento cittadini che in quel momento facevano parte di un consiglio e siccome venivano rinnovati continuamente ogni sei mesi questo vuol dire che molte migliaia di cittadini avevano occasione di partecipare era un governo largo come dicevano loro dopodiché c'erano quelli che ogni tanto capitavano in un consiglio quasi per caso e c'erano quelli che invece ci tenevano e cercavano di essere sempre presenti e dante per qualche anno è stato uno di quelli è stato uomo di parte è stato uomo di partito il partito guelfo che governava la città ormai da tanti anni e che spadroneggiava in città nella firenze di dante c'era il partito parte guelfa che faceva le liste dei nemici politici che faceva le liste di quelli che erano sospettati di essere ghibellini e quindi andavano tenuti sotto controllo e poi è stato uomo di un governo di popolo come dicevano loro è stato uomo di un governo come dire di classe degli imprenditori degli uomini d'affari dei bottegai gente che cercava di tenere lontano dal potere sia i poveri ma anche anche i gran signori i ricchi che vivevano di rendita era il governo della gente che lavorava e faceva i soldi e non aveva paura di sporcarsi le mani con gli affari dante è stato uno di loro anche se lui personalmente poi corrispondeva fino a un certo punto a questo profilo perché perché lui personalmente non lavorava mica i soldi li aveva fatti il padre il nonno e li avevano fatti sporcandosi le mani prestando a usura ma dante viveva di rendita però se volevi fare politica a firenze in quel momento dovevi stare col popolo e dante è stato uomo di quel governo lo ha servito fedelmente ha servito il governo di popolo ha servito il partito guelfo ha servito la fazione a cui apparteneva perché il partito era spaccato c'erano due fazioni i bianchi e i neri dante stava coi bianchi e poi gli è andata male perché i bianchi sono stati buttati fuori e i neri con la violenza hanno preso il potere in città e lì la carriera politica di dante si è interrotta bruscamente per sempre e si è interrotta male con un processo con un processo per malversazioni per brogli per peculato diremmo noi loro avevano una parola che indicava tutte queste cose insieme tutte le porcherie che un politico può fare quando è al potere e maneggia fondi pubblici la chiamavano baratteria ecco la baratteria era il grande dramma della politica italiana nel medioevo voglio dire e dante c'era dentro è stato processato e condannato all'esilio per questo tutti hanno sempre detto vabbè processo politico chiaramente figurati se dante però però attenzione perché andando a vedere le cose da vicino i neri vincitori hanno mandato sotto processo solo alcuni dei loro avversari mica tutti non tutti quei bianchi che hanno condiviso il potere con dante sono stati poi processati e condannati per malversazioni solo qualcuno e dante era uno di quelli questo significa che per gli avversari ecco processare dante accusandolo di aver fatto delle porcherie era come dire perlomeno plausibile e noi a dir la verità sapendo come funzionava quel mondo è difficile pensare che dante non si sia un po sporcato le mani ogni tanto certo non per arricchirsi lui però per fare un favore a un amico di partito a un compagno di corrente per evitare che un posto andasse alla persona sbagliata per far avere un finanziamento agli amici ecco questo dante può benissimo averlo fatto del resto lui quando racconta il suo viaggio nell'oltretomba dice io mi ero perso mi ero perso in una selva oscura e più avanti spiega questo perdersi in una foresta buia vuol dire vuol dire che si stava dannando l'anima glielo dice virgilio tu in quel momento ti stavi dannando l'anima ebbene il suo viaggio nell'oltretomba è collocato tra il marzo e l'aprile dell'anno 1300 cioè nel momento in cui lui era immerso fino al collo nella politica fiorentina e poco prima che venisse nominato per essere uno dei sei priori che governavano la repubblica insomma non andiamo forse tanto lontano dalla verità dicendo che dante quando scrive la commedia sta anche pensando che se avesse continuato a far politica in quella città rischiava davvero di dannarsi l'anima